Mister Nicola Terranova, un pareggio qui allo stadio di Nuova Cara fra due squadre che ancora non hanno perso in campionato. Voi avete giocato una grande partita, anche la Mazzarese, ma avete qualcosa da recriminare? Magari qualche rimpianto per qualche occasione sprecata? No, direi che se fosse, se dovrei dare un titolo a questa partita, direi peccato. Peccato perché abbiamo affrontato una grande squadra, mi dicono che la Mazzarese prima di questa partita non aveva mai giocato in questa maniera, quindi il nostro pareggio diventa ancora più prezioso. Nonostante l'avversario forte abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tante volte in porta, quindi dobbiamo essere contenti. Dobbiamo sicuramente rivedere un po' la fase conclusiva e dobbiamo avere più freddezza sotto porta. Poi per il resto ci prendiamo il punto contro una squadra che ha investito tanto come ha investito l'Agregas, una squadra che giocherà punto a punto fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi se dobbiamo fare un po' di ragionamenti un po' più, fra virgolette, più vecchi che si facevano prima, abbiamo fatto un pareggio fuori casa e quindi come media inglese andiamo avanti. Cosa è mancavo oggi all'Agregas, il mister, per portare a casa la vittoria? Non credo nulla, abbiamo giocato una partita all'armi pari contro un avversario difficile, contro un avversario costruito come noi per primeggiare, è mancato solo il gol. Poi il pareggio ci sta, il pareggio contro la Mazzarese ci sta, probabilmente ai punti avremmo meritato di vincere noi, però va bene così. Era questa la Mazzarese che si aspettava prima di questa gara? Sapevo che la Mazzarese fosse un collettivo importante, ho visto le otto partite precedenti, più quelle di Coppa, non avevamo mai espresso il gioco che è espresso oggi, quindi ti ripeto il pareggio di oggi assume un'importanza ancora più grande. Noi andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo che abbiamo dei margini di miglioramento, dobbiamo essere più bravi nella gestione di alcuni momenti della partita, però c'è il campo che dirà se in futuro potremmo ancora lottare per essere primi. Se vogliamo studere con un'analisi tecnica di tutti i 90 minuti, che commento fa lei, mister? Si sono affrontate due squadre che si conoscevano abbastanza bene, avevamo preparato determinate uscite che poi abbiamo cambiato in corsa, abbiamo chiuso le fonti di gioco della Mazzarese, li abbiamo costretti a giocare la palla lunga, e poi nel primo tempo credo che ci siano state delle situazioni pericolose da parte della Mazzarese, soltanto soppiazzato, poi nel secondo tempo chiaramente una squadra in casa che sta perdendo, ha alzato il baricentro, abbiamo sofferto un pochettino, ma credo che sia pure giusto soffrire contro un diretto avversario. Poi ti ripeto, il pareggio è giusto, il pareggio ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto, mercoledì abbiamo già un'altra gara e la testa va a risottare. Mister, lei è entrato in campo, ha ricevuto gli applausi da parte del pubblico di Mazzare al Vallo, lei è un mazzarese, è giocato anche per il Mazzara, allenato anche in altri contesti, e poi anche applausi alla fine. Ecco, fa sempre piacere tornare da avversario nella propria città ed essere accolto sempre bene, no? Non nascondo che le partite che gioco al Nino Vaccaro non sono le stesse delle altre, quindi è sempre un'emozione particolare. Oggi, come è successo con il Mazzare, ricevere gli applausi dal mio pubblico è stato emozionante. Le ringrazio, come ringrazio la Mazzarese per l'ospitalità che ci ha dato.